ORE E ORE ORE E ORE passate nel traffico per spostamenti da un lato all'altro della città, transfer per raggiungere aeroporti, stazioni e non sempre dietro l'angolo. Hai idea di quanto tempo potresti guadagnare se nel frattempo potessi essere in ufficio, comodamente seduto a lavorare in pieno comfort. Oggi esiste un'alternativa che coniuga innovazione e design in favore di un'ottimizzazione dello spazio e del tempo. Autista privato, taxi, trasporto di personalità o navetta aziendale, Traffic Space Class soddisfa appieno le esigenze della sua clientela business. Il design si mette al servizio dell'eleganza grazie alle linee fluide ma decise, alla silhouette robusta che infonda sicurezza, ai vetri posteriori oscurati per offrire una maggior riservatezza ai clienti e ai piccoli dettagli che valorizzano un carattere deciso. Traffic Space Class ha tutto il necessario per distinguersi. I tempi di trasporto possono essere sfruttati per lavorare e gli spostamenti sembreranno molto meno lunghi a bordo di Traffic Space Class. Con più di 50 configurazioni possibili da 2 a 8 posti, Traffic Space Class offre notevoli possibilità di personalizzazione grazie a divanetti e sedili scorrevoli, retrattili e girevoli, disposti su binari che consentono di ottenere la massima modularità. All'interno la seleria è in pelle, l'illuminazione a LED, i sedili modulari su binari e gli elementi decorativi curati sono degni di una berlina top di gamma. Nelle configurazioni signature, dunque a 7 posti, Traffic Space Class si trasforma in una vera e propria sala riunione in movimento. Grazie al tavolino centrale, scorrevole ed estraibile, alle prese USB e luci a LED di cortesia e numerosi vani portaoggetti, fino ai sedili individuali, girevoli e alle prese 12 volt e USB. Disponibile in due lunghezze, parliamo di 5 e di 5,4 metri, Traffic Space Class vanta uno spazio passeggerico unico per le dimensioni generose con un'ampia apertura delle porte, la funzionalità Easy Entry che consente di accedere con estrema facilità all'ultima fila di sedili e last but not least un bagagliaio molto spazioso. Posizione di guida rialzata, sedili anteriori ergonomici riscaldabili in pelle, il sistema multimediale intuitivo R-Link Evolution o MediaNave Evolution, accessibile mediante un display integrato da 7 pollici, abbiamo un record anche di spazio con i vari vani portaoggetti e la climatizzazione automatica. È veramente un concentrato di tecnologia per la sicurezza e il comfort dei suoi passeggeri. Traffic Space Class il tuo Business Lounge Grazie a tutti.